Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Prestare però attenzione per le avverse condizioni meteo con piogge sparse su tutta la regione. Vento forte in a 12 tra Carrara e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero a causa di un cedimento tratto chiuso tra Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano. Sulla statale 67 Toscoro-Magnola restringimento di carreggiata al chilometro 89 in località Anchetta nel comune di Fiesole. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!